Nei giorni scorsi le fiamme gialle del comando provinciale di Latina, all'esito di una sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di due cittadini pontini arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, hanno proceduto alla distruzione presso l'inceneritore di San Vittore del Lazio di un eccezionale quantitativo di droga. L'attività è legata ad un'investigazione condotta dai finanzieri del gruppo di Latina nel maggio del 2022, quando le fiamme gialle, nell'ambito di un piano d'azione coordinato dal comando provinciale di Latina, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti, hanno individuato e sequestrato oltre 325 kg di hashish, suddiviso in circa 3.000 panetti, per la successiva lavorazione e dimissione in commercio. L'ingente quantitativo di stupefacente sottoposto a sequestro, uno dei più importanti avvenuto negli ultimi anni sul territorio della provincia pontina, avrebbe permesso di realizzare circa 4 milioni di dosi, che se messe in consumo avrebbero consentito un guadagno illecito di oltre 3 milioni di euro, oltre a cagionare gravi danni alla salute dei consumatori non di rado sempre più giovani. Nella giornata odierna si è conclusa la fase di un iter che, grazie all'adeguato dispiegamento delle forze messe in campo dal gruppo di Latina, per scortare in totale sicurezza e con le dovute cautele e precauzioni, l'enorme quantitativo di sostanza all'inceneritore, ha permesso allo stupefacente di raggiungere la sua naturale destinazione, ovvero la distruzione. Grazie a tutti.